wayla ciao a tutti ragazzi ben ritrovati sul mio canale benvenuti in un nuovo video oggi andiamo a parlare del sequel in pratica già annunciato di Lies of P infatti nella scena post credits del gioco quindi al termine della storia abbiamo una scena particolarmente rilevante in cui abbiamo un vero e proprio teaser di quello che sarà il sequel di Lies of P nella scena vediamo Paracelsus che abbiamo conosciuto come Janjo durante il corso del gioco che parla il telefono su un treno parla con una donna alla quale dice di aver concluso l'esperimento Krat e che ha trovato una nuova forma di vita eterna successivamente le dice che dovrà trovare un'altra chiave denominata Dorothy a questo punto appare questa ragazzina che passeggia su un tetto con delle scarpe rosse e che batte i tacchi per tre volte ma chi è questa Dorothy? Senza ombra di dubbio il personaggio in questione è la protagonista del meraviglioso mago di Oz in grado di teletrasportarsi urtando per tre volte i tacchi l'uno contro l'altro abbiamo anche un altro indizio rilevante a sostegno di questa tesi infatti mentre Paracelsus parla sul treno ha davanti a sé sul tavolo un libro che si intravede che è proprio la copertina di una delle primissime se non la prima edizione del meraviglioso mago di Oz probabilmente Neovitz vuole creare un universo narrando delle fiabbe più famose della letteratura in maniera sicuramente innovativa così come fatto con Lice of P il successo di Lice of P che ha venduto già un milione di copie nel suo primo mese dall'uscita sicuramente può agevolare questo processo e la creazione di questo universo narrativo se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao